Buonasera a tutti, inizio con i ringraziamenti che sono tantissimi, un ringraziamento speciale al prefetto Castrese De Rosa che si onora sempre della sua pregevole presenza e diamo l'opportunità di fare un saluto a tutto il nostro pubblico. Bene, grazie a te, grazie a voi. Io quando vedo i vostri inviti e vedo che c'è Eugenio Fusignani e poi il professor Morigi, non potevo non essere stasera per ascoltarvi, quindi sono qui veramente per ascoltarvi con grande interesse, c'è sempre da imparare. Stamattina ero all'Almaggià perché parlavamo un po' con i ragazzi e gli studenti di legalità, di rispetto delle regole, di sicurezza sul lavoro e quindi è stata per me un'occasione importante. Oggi pomeriggio andrò ad ascoltare alla Casa Madre una bella relazione, poi un tema di grande attualità. Quindi grazie per questo invito e invitatemi sempre che quando vedrò temi come questi, la mia presenza, soprattutto per imparare, sarà sempre preziosa e gradita. Grazie a voi. Grazie ancora. Ringraziamo il nostro vice sindaco Eugenio Fusignani che dopo avrà l'occasione di fare un saluto. Ringraziamo tutti voi per la presenza, la Casa Madre per la collaborazione e in particolare il signor Stefano Minghetti, quale operatore e il primo massaro Maurizio Piancastelli per la sua ospitalità. Grazie mille. Ringraziamo l'associazione martiniana che ha collaborato con noi insieme alle società conservatrice del Capanno Garibaldi, il signor De Lorenzi e non per ultima in quanto prestigiosissima, presieduta dal nostro vice sindaco Eugenio Fusignani, la fondazione Ravenna Risorgimento. Presenteranno, entro nel merito della conferenza così vi informo. Presenteranno la conferenza l'avvocato Filippo Raffi che è vice presidente dell'associazione nazionale ANVRG, sarà relatore della conferenza lo stato delle cose della geopolitica italiana nei conflitti in Mattini e Garibaldi, il professor Massimo Morigi, Ravennate con un passato storico nel repubblicanesimo, docente di filosofia politica presso l'università di Coimbra in Portogallo e tuttora mantiene un contatto con il pubblico tramite il suo blog di geopolitica L'Italia e il mondo. È scrittore e saggista, scrive diversi libri e noi ricordiamo in particolare la monografia di Arnaldo Guerrini di cui ne ho portate alcune copie, questa monografia è edita nel 1989, ne ho portate alcune copie che qualora desideraste a fine conferenza le potete prendere sono copie omaggio per il pubblico. Ora diamo la parola per un saluto all'avvocato Filippo Raffi. Buonasera a tutti. Mazzini e Garibaldi. Garibaldi e Mazzini, il generale e l'apostolo genovese. C'è chi parla di amore e odio tra i due grandi del nostro risorgimento. Di sicuro il rapporto fu complesso. Il giovane Garibaldi fu da subito discepolo fedele dell'apostolo genovese. Appena 26enne a Tagarroga sul Mardazzo, Garibaldi rimase affascinato dalle parole di Gian Battista Cuneo, chiamato il credente, un affiliato alla giovane Italia appena fondata da Mazzini, che auspicava l'unità repubblicana della penisola e la liberazione dallo straniero. Da quel momento Garibaldi fu un mazziniano convinto, al punto di incontrare il maestro in esilio a Marsiglia ed aderire la giovane Italia. Quando fu costretto a espatriare in Sud America per essere stato condannato a morte dallo Stato Sabaudo, a seguito dei falliti moti insurrezionali mazziniani del 1934, non venne meno il suo ardore rivoluzionario nel nome di Mazzini, facendo propaganda a favore della giovane Italia fra gli immigrati italiani e proponendosi di effettuare una guerra di corsa, cioè essere un corsaro, per disturbare il commercio piemontese utilizzando una piccola nave cui diede proprio il nome di Mazzini. Gli anni sudamericani, con le battaglie a sostegno di cause di liberazione a sfondo repubblicano, consolidarono il legame tra i due giovani rivoluzionari italiani. Mazzini, per parte sua dall'esilio, contribuì sul suo giornale, l'apostolato popolare, a divulgare nella penisola enfatici resoconti delle imprese della legione italiana in camicia rossa, guidata da un Garibaldi che il governo urguaiano aveva nominato generale. Le notizie su Garibaldi che arrivavano in Italia cominciavano a tratteggiare nell'immaginario collettivo la figura dell'eroe invincibile, pronto a battersi per la libertà degli oppressi, prime entusiastiche manifestazioni di un mito garibaldino che avrebbe percorso tutto il nostro risorgimento. Corrientro di Garibaldi in Italia nel 48 e la sua incondizionata visione alla guerra piemontese di Carlo Alberto si ruppe il sudalizio con Mazzini, segnando tra loro una frattura sulla questione cruciale, se le forze insurrezionali dovessero convergere o meno sotto la bandiera monarchica al fine di realizzare un superiore obiettivo, quello dell'indipendenza e dell'unità nazionale. Ora, se per Mazzini era inconcepibile una scelta politica che superasse il limite inviolabile del suo progetto di unità repubblicana, cita da un'assemblea costituente eletta dal popolo, Garibaldi era disposto a realistico compromesso di seguire Carlo Alberto che pareva deciso battersi per l'indipendenza. Bisogna ammettere che nelle scelte decisive il generale aveva fiutto, aveva la straordinaria capacità di cogliere sempre la parte giusta delle tendenze dei suoi tempi, di avvertire istintivamente i bisogni e le aspirazioni delle masse popolari. Bisogna però riconoscere che entrambi era un'espressione di quella sensibilità, chiamiamola romantica ottocentesca, col suo richiamo a valori e ideali cui sacrificare totalmente se stessi nel nome di una legge superiore, non più dettata dalla ragione, né da una divinità trascendente, bensì immanente ai valori stessi dell'umanità. Tutto questo in Garibaldi si traduceva nella visione di un eroe senza macchie e senza paura, interprete delle aspirazioni di riscatto delle masse, quelle masse che lo adoravano e lo guardavano come una divinità. Per suo tramite, senza alcun dubbio, il risorgimento fu anche del popolo e con il popolo. Grazie a lui i valori di democrazia, di liberalismo, di virtù civiche furono percepiti al di là della stretta cerchia degli intellettuali. C'è da dire che anche in Mazzini ritroviamo un identico sogno di emancipazione delle masse da perseguire, certo con modalità differenti, ma sempre all'interno dell'obiettivo di una nazione governata secondo principi di democrazia e di libertà. Certo non c'era, né poteva essersi verso Mazzini, quell'intimo istintivo sentimento di medesimazione tra popolo ed eroe che alimentava il mito garibaldino. E si doveva aggiungere la dolorosa vicenda della Spromonte per avere un riavvicinamento tra i due grandi che si incontrarono a Londra dove Mazzini era esule e Garibaldi fu accolto in maniera trionfale. Tornando ai giorni nostri, in un'Italia che nonostante il tempo trascorso non ha ancora fatto i conti con le tensioni politiche e ideologiche del proprio risorgimento, le figure di Mazzini e di Garibaldi sono diventati simboli di ideali, di sentimenti e di aspirazioni, miti durevoli di un'intera epoca in grado di parlare l'età successive. Forse questo lo riscontriamo più nel generale che nell'Apostolo per l'inevitabile attrazione e l'idealizzazione delle eroiche vittorie sui campi di battaglia, a fronte invece della rigorosa moralità del secondo, della sua sofferta vocazione al martirio in nome di un ideale repubblicano tenacemente perseguito a sprezzo di ogni personale sacrificio. Tuttavia entrambi sono uniti dall'identico sogno di emancipazione delle masse popolari, da perseguire però con modalità differenti, ma sempre all'interno del bene supremo costituito dall'unità e dall'indipendenza nazionale. A queste grandi figure risorgimentali, quasi mitologiche, l'Italia del Novecento e anche l'Italia di oggi si è sempre dovuta rivolgere nei momenti più tragici, quando occorreva diffondere una speranza di fronte al disgregarsi della collettività nazionale e battersi per ritrovare le ragioni del comune cammino. Nonostante le differenze e dissidi di questi due giganti del nostro risorgimento, mi piace ricordarvi uniti, come ancora oggi vuole la tradizione romagnola, come nelle nostre case di campagna, dove i contadini accostavano i ritratti e le olografie di Mazzini e Garibaldi quasi fossero divinità laiche di una religione civile che unisce tutti gli italiani. Grazie a tutti voi. Grazie Filippo. Ora la parola al Vice Sindaco del Comune di Ravenna Eugenio Fusignani, nonché Presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento. Grazie. Grazie a te Laura. Intanto buonasera a tutti, a tutti signor Perfetto che ha onorato con la sua autorevole presenza questa serata, una serata voluta fortemente dalle associazioni risorgimentali di Ravenna e in particolare l'Associazione Nazionale Volontari Reduci Garibaldini e coniuvato ovviamente dall'Associazione Mazziniana Italiana, dalla Fondazione Ravenna Risorgimento che ho il piacere e l'onore di rappresentare. Rappresentare il Comune di Ravenna, quindi una comunità importante come quella della nostra città, è sempre un momento estremamente oneroso e anche emozionante e lo diventa ancora di più quando il saluto da portare avviene in manifestazioni come queste, soprattutto in questo luogo. Non smetterò mai di ringraziare la Casa Mata, il primo massaro che saluto con grande affetto la Casa Mata per l'ospitalità che sempre dà alle iniziative culturali del nostro Comune. La Casa Mata che è uno dei luoghi simbolo della cultura ravennata, una cultura che supera ormai il millennio, essendo la Casa Mata la corporazione più antica d'Europa e quindi per convesso la corporazione più antica del mondo. Ed è ancora più oneroso ed emozionante parlare del tema che l'Associazione Nazionale Volontaria e Repubblici Garibaldini ha proposto per questa serata parlare di un tema importante come quello del rapporto tra Garibaldi e Massini ma anche della geopolitica, tenendo presenti anche i rapporti che quando parliamo di geopolitica in questi momenti la mente corre o all'immigrazione o alla guerra in atto vicino a noi in Ucraina, alle soglie della vecchia e antica Europa. Questo richiama alla memoria anche un fatto che c'è un legame molto datato tra la nostra comunità, tra Ravenna, tra la nostra città e l'Ucraina, non tanto e non solo per i trattici commerciali che ad oggi avvengono ancora nel nostro porto, ma è un rapporto bimillenario perché quando nel 27 d.C. l'imperatore Augusto volle la flotta romana, la flotta romana del Mediterraneo orientale la volle a classe, quella flotta aveva il compito di pattugliare e sorvegliare il Mediterraneo orientale e a settembre, alla fine dell'estate partiva per arrivare in Tauride, passava tutto l'inverno in Tauride e ritornava poi in primavera per completare il suo lavoro, ritornava a classe. La Tauride non era altro che l'Odiena Crimea, ma c'è un elemento ancora in più che rende importante questo convegno in questa giornata. Oggi è il 10 marzo, il 10 marzo è l'anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, si concludono oggi, ufficialmente si sono concluse stamattina alla Domus Mazziniana di Pisa, le celebrazioni sotto l'alto patrocinio del Presidente della Repubblica per il 150esimo della morte di Giuseppe Mazzini, quindi oggi è il 151esimo anniversario della morte di Giuseppe Mazzini e questo rende ancora più significativa la presenza delle associazioni risorgimentali, la presenza dei cittadini e la presenza delle istituzioni repubblicane perché le istituzioni repubblicane devono a Garibaldi, ma soprattutto devono a Giuseppe Mazzini il pensiero che ha prodotto la Repubblica e la Costituzione nella quale viviamo, che non dimentichiamo, è figlia in linea diretta della Costituzione del 1849 di quella Repubblica Romana che poi al suo crollo ha visto non tanto la fuga di Garibaldi quanto la partenza di Garibaldi da Roma per portare soccorso alla Repubblica Venerdì di Manin e poi tutti quanti noi sappiamo la storia, sappiamo che venne intercettato a largo del Lido di Magnavacca oggi Porto Garibaldi e di lì Anita che muore a Mandriole e tutta la trattiva garibaldina. Una storia che è una storia tipicamente ravennata e che fa in modo che Ravenna abbia intrecciato la propria storia, la propria esistenza con la storia del nostro paese perché senza il salvataggio o meglio il salvamento come lo chiamano in Toscana, qui Baldo Baldi e le origini toscane, senza il salvamento di Garibaldi oggi probabilmente vivremo, saremmo qui a raccontare un'altra storia. È stato un anno intenso quello del 150esimo di Mazzini è stato un anno intenso che ha visto la comunità ravennate partecipe e soprattutto ha visto la fondazione Ravenna Risorgimento partecipe in un'iniziativa estremamente importante anche perché ha coinvolti i giovani e ha coinvolti i giovani del liceo artistico con la realizzazione, prima con uno studio e con la realizzazione, qui saluto la professoressa Martinelli che di questo progetto è stata una delle artefici, insegna storia quindi ha dato i dettami giusti agli allievi e insieme alla professoressa Elena Pagani, professoressa di mosaico, i ragazzi sono riusciti a costruire, io dico a realizzare un'opera d'arte, un mosaico di stampo raveniano bizantino che riporta l'effigie di Mazzini e quel mosaico oggi orna con grande l'onore per Ravenna ma soprattutto per il liceo artistico, orna le pareti della domus Mazziniano di Pisa. Nell'immaginario collettivo, lo richiamava prima l'avvocato Raffi, intelligentemente nell'immaginario collettivo Mazzini e Garibaldi soprattutto nelle nostre zone, soprattutto nel sentire il repubblicano perché Mazzini e Garibaldi sono personaggi trasversali ma Garibaldi è un po' più trasversale rispetto a Mazzini, Mazzini è un personaggio che deve essere ancora studiato ed approfondito. Nel comune sentire Mazzini e Garibaldi sono il rapporto e in effetti il rapporto tra i due ci fu, fu un rapporto molto stretto ma non sempre un rapporto di lievo, fu un rapporto spesso conflittuale, molto spesso conflittuale e se Garibaldi nasce Mazziniano sicuramente Garibaldi diventa un democratico che non rifiuta però la monarchia. A differenza di Giuseppe Mazzini, ma poi qui sarà il professor Morigi, non voglio invadere campi che non sono miei, ma l'intransigenza di Mazzini verso la monarchia fu un'intransigenza che portò fino alla morte. Morì il 10 marzo del 1872 a Pisa a casa Nathan Rosselli sotto il falso nome di Mr. George Brown e questa la dice lunga su come un padre della patria ancora dopo l'unità d'Italia, ancora due anni dopo la breccia di Porta Pia, quindi la presa di Roma, era ancora ricercato dalla polizia sabauda con una condanna a morte e quindi esuli in Italia, in quella patria che lui aveva pensato quando l'Italia ancora non c'era e in quell'Europa che ancora oggi non c'è. Garibaldi fu, come dicevo, democratico e monarchico allo stesso tempo. Sicuramente è molto più popolare di Giuseppe Mazzini. Anche per quella sua, per il suo figlio, diciamo, Vascone, che lo portava molto spesso a ignorare le leggi dell'epoca, qui potremmo disquisire la sua teoria della resistenza delle leggi, potremmo parlare di tutto e faceva bene. Ignorare le leggi, ma soprattutto ignorare le leggi della paura. Un uomo che affrontava tutte le azioni non con spregiudicatezza, ma sicuramente con grande coraggio. A differenza di Mazzini, per cui tutto doveva essere pensato, ragionato, calato, e qui credo che i due rappresentino l'incarnazione plastica dell'assunto mazziniano pensiero e azione. Se uno pensava, l'altro agiva. Non che Mazzini non agisse, non che Mazzini agiva in maniera diversa. E a volte, e via via la conclusione, perché altrimenti non sottrago spazio alla relazione che è la relazione del professor Morigi, ma spesso mi immagino il dialogo tra i due, ad esempio sulle azioni da compiere. E Mazzini, mi immagino che Mazzini dicesse a Garibaldi che bisogna fare quell'azione, e Garibaldi che la guardava dal punto di vista militare, diceva, ma no è impossibile, là andiamo a morire, questo è un suicidio. E Mazzini che diceva, no, va fatta, perché non conta la vittoria, non conta la vittoria di questa battaglia, conta piantare una bandiera che ha un significato politico per quella battaglia. E anche se si perde, purtroppo la sconfitta significava molto spesso la perdita di uomini, di giovani vite, ma la sconfitta era necessaria per costruire una coscienza nazionale. E credo che questo Garibaldi, con tutto il rispetto che troviamo a questa figura, facesse da uomo d'arme, facesse un po' più fatica, nonostante il suo pensiero, perché pensava anche Garibaldi, facesse un po' più fatica, un po' più fatica ad accettarlo. Ma io credo che oggi Ravenna, che è sicuramente tra le varie forme di capitale che ha assunto nella storia, sicuramente può affeggiarsi anche il titolo di capitale del risorgimento nel nostro Paese. Ravenna è una capitale del risorgimento, perché qui il risorgimento è passato, qui il risorgimento si è svolto e qui il risorgimento ha lasciato dei semi. Tutte le forze politiche, anche quelle apparentemente più lontane, sono state contaminate da quei semi. Il risorgimento ha toccato tutte le corde politiche della nostra comunità, anche da quelle che hanno avversato quei fatti. E credo che oggi, se c'è uno spirito civico particolarmente elevato, credo che questo sia una cosa che Ravenna deve andare fiero di questa cosa, non dimentichiamo che, al di là di quanto sta avvenendo in questi ultimi momenti, quando il voto è sempre più prerogativa di pochi, non dimentichiamo che qui, ad esempio nel referendum del 2 giugno del 1946, Ravenna fu la città che diede il maggior numero di votanti e soprattutto diede il maggior numero di votanti per la Repubblica. Così come Ravenna, alle prime elezioni europee, fu la città in Europa che ebbe la più alta percentuale al voto. Questo senso civico, che appartiene un po' a tutte le forze politiche, è un senso civico che viene dalla nostra storia e che viene soprattutto da quella storia del risorgimento che qui, ripeto, si è svolto e si è intrecciato a pieno titolo con la storia d'Italia. Una storia d'Italia che è una storia di valori che affondano le radici in quel periodo, senza il risorgimento non ci sarebbero state la guerra di liberazione, la resistenza dunque, e la Repubblica. E la Repubblica è il disegno di Giuseppe Mazzini. Ci sono voluti cent'anni, siamo a pochi giorni dall'8 marzo, ci sono voluti anche cent'anni perché le donne andassero al voto. Mazzini pensava al voto alle donne, pensava alle donne in politica nei doveri dell'uomo già nel 1860. La donna, Angelo della famiglia, lo ricordavamo stamattina, Angelo della famiglia, il fascismo, lo trastorno, l'angelo del focolare, che è tutto un altro aspetto, perché Mazzini spiega che cos'è la famiglia e poi dice non avete, rivolto agli uomini, non avete, nel 1860, non avete alcuna superiorità, abbiate vicino la donna nella vostra vita civile e politica. Ci sono voi cent'anni per arrivare a vedere le donne in politica, 1946, e guarda caso, fu subito Repubblica, e credo che anche questo non sia stato caso. C'è bisogno ancora dei valori massiniani, ne abbiamo bisogno, lo vediamo in quello che succede nel mondo, lo vediamo in quello che succede in Europa, ma lo vediamo anche in quello che succede in Italia. C'è bisogno dei valori massiniani, c'è bisogno di capire i valori massiniani, perché si prestano spesso, troppo spesso, ad essere strumentalizzati, ad essere stravolti. Anche forze politiche attuali stravolgono concetti massiniani, che sono concetti che vogliono dire tutt'altra cosa rispetto all'uso strumentale che ne viene fatto. Il Dio, Patria e Famiglia, che viene sbandierato spesso da forze politiche importanti, non è il Dio, Patria e Famiglia che aveva in testa Mazzini e non è il significato che Mazzini voleva dare a questi tre elementi, che presi singolarmente non significano nulla, presi insieme, significa la grande famiglia dell'umanità, la patria dell'umanità e il Dio della coscienza. C'è bisogno ancora di tutto questo, c'è bisogno di riaffermare questi valori, perché anche un uomo di grande intelligenza, non voglio mettere in imbarazzo il prefetto, un uomo di grande intelligenza, di grande capacità, come il Ministro dell'Interno Piantedosi, con le dichiarazioni che ha fatto di fronte all'immane tragedia di Cutro, fa capire, anche da questo aspetto, fa capire di come ancora oggi ci sia bisogno di recuperare quei valori mazziniani. I valori mazziniani che qui a Ravenna sono ancora presenti e che possono essere visti non solo come un aspetto di tradizione, perché la tradizione fine a se stessa può scadere nel folklore, ma una tradizione che deve essere riportata avanti sempre più e per portarla avanti servono anche iniziative apparentemente banali come la deposizione di una corona come abbiamo fatto stamattina o iniziative ancora più importanti come quella di un convegno che si tiene oggi pomeriggio in questo splendido a cornice della Casa Marta. Convegno per il quale ringrazio ancora l'Associazione Nazionale Volontari Red, Ducigli e Ribaldini e ringrazio tutti voi per la vostra cortese attenzione. Grazie a Eugenio Fusignani per le sue toccanti parole ed ora possiamo entrare nel merito di questa interessantissima conferenza dando la parola al professor Massimo Morigi. Grazie. Cominciamo con una nota di colore che però non è una nota di colore. Vediamo qua una camicia rossa e parlando di Garibaldi e Mazzini nessuna domanda sorge spontanea è naturale. Vediamo però qui anche una divisa una divisa da bersagliere e dire ma che cosa c'entrano i bersaglieri in tutta questa storia? C'entrano invece. C'entrano perché Luciano Manara era un bersagliere comandava i bersaglieri di Lombardi Repubblica Romana Goffredo Mammelli Piedro Branzetti e tanti altri erano bersaglieri sempre nella Repubblica Romana Milo Bixio era anche Milo Bixio bersagliere non nella Repubblica Romana Allora vediamo spero di non distruggere nulla Allora stavo dicendo che il bersagliere che è qui rappresentato dal mio caro amico e parente Rosario è insito e profondamente incarnato in questa conferenza quindi i bersaglieri con l'epopea Mazziniana Garibaldi con l'epopea risorgimentale sì ma proprio con l'epopea Mazziniana e Garibaldi la centrano e come quindi un plauso anche a chi ha voluto impersonare queste divise che ha voluto indossare queste divise da bersagliere che poi fra l'altro è stato pure benissimo allora il titolo e adesso passiamo al titolo della conferenza e vediamo di ridare una spiegazione lo stato delle cose della geopolitica italiana e dissapori i dissidi fra Mazziniana e Garibaldi allora la geopolitica italiana oppure le relazioni internazionali dell'Italia il dibattito scientifico sulle relazioni internazionali dell'Italia fino che non è scoppiata la guerra russo-ucreina io non la chiamo operazione speciale ma la guerra russo-ucreina era questa sconosciuta il geopolitico o il presunto tale non se lo filava nessuno ogni tanto quando si parlava di terrorismo veniva chiamato però insomma era una presenza abbastanza rada e sparuta nei mass media con lo scoppio di questa guerra prima c'erano stati i virologi alcuni ottimi altri meno ma venuto meno il covid è stato il momento del geopolitico o dell'esperto di relazioni internazionali insomma indifferentemente ora se per quanto riguarda i virologi alcuni hanno fatto una bella figura normale altri invece si vedeva che erano personaggi chiamati ma tu non hai studiato ma non studiavi se loro vieni vieni di qualche cavolata si può dire che anche per i geopolitici questo si è verificato con l'aggravante che mentre per quanto riguarda i virologi presunti tali comunque si andavano a prendere dei medici comunque non gente che provenivano da istituti scientifici si prendeva il primo medico che veniva e poi vabbè facciavolo parlare soprattutto nella prima fase per quanto riguarda invece i geopolitici o gli cosiddetti esperti di relazioni internazionali si è andati a pescare presso gli istituti cioè non è che si è andato a pescare a casa il primo che passava tutti i tendi di politica si viene a parlare no si è andato a pescare a gente che in teoria almeno erano esperti si occupavano di geopolitica orbene questi nella grande maggioranza di casi sto parlando a livello mediatico poi la scuola geopolitica italiana come vi dirò brevemente la scuola geopolitica italiana è di ottimo livello a livello mediatico quello che è venuto fuori da parte degli esperti geopolitici e o di esperti di relazioni internazionali sono siccome qui è una sede paludata giustamente paludata anche accademica non voglio scendere in parole non consone però quelli che sono venuti fuori sono i cosiddetti quelli che gli inglesi chiamano fairy tales racconti delle fiabe racconti di favole elfi e goni cioè questi aspetti di geopolitica nella sagrada maggioranza dei casi non cercavano di rendere di volgarizzare rendere popolare la loro scienza approfittando della tragedia russo-ucraina semplicemente si sono piegati a puri strumenti propagandistici a puri strumenti propagandistici per una parte prevalente a favore di coloro che contestavano ai russi ma anche da parte di coloro che sono a favore della russia e che anche loro si sono piegati nella stragrande maggioranza dei casi a strumenti propagandistici faccio alcuni esempi faccio alcuni esempi di questi cantastoria raccontatori di favore e lo faccio sotto mia responsabilità non voglio coinvolgere nemmeno i qui presenti al tavolo e nemmeno alla casa amata sono mie opinioni personali che però che però chiunque abbia avuto modo di ascoltarli insomma avrà detto vabbè sono d'accordo a loro come opzioni di principio però la loro scienza la loro dottrina lascia il quanto a desiderare farò due o tre esempi poi farò anche degli esempi positivi e poi farò anche un esempio a questo proposito di un geopolitico straniero americano che nonostante sia completamente a favore degli Stati Uniti George Friedman di Geopolitical Futures insegna una dottrina geopolitica che ha cospetto dei nostri italici propagandistici insomma allora qualche nome qualche nome di insomma di persone con cui io riseto profondamente un nome può essere un nome l'istituto l'istituto d'affari internazionali IAI è Natali Tocci quando si sente parlare Natali Tocci sembra di parlare di quello che una volta si chiamava il mini cool pop cioè non parla questa signora che sarà anche bravissima non parla delle fatte in campo delle motivazioni delle ragioni che possono avere in tutto l'uno l'altro parla di scontro democrazia contro autocrazia a domanda c'è in diverse occasioni la domanda ma lei si confronterebbe mai con qualcuno che non la pensa come lei che è a favore dell'uso dice no perché quelli sono solo programisti fine della storia non c'è l'altro da dire dopo questa liquidazione è chiuso il discorso e non c'è molto altro da dire ci sono anche altri propagandistici però meno efficaci quindi adesso mi salto perché finiremo nel tempo passiamo al principe al principe di questi propagandisti non appartiene a un docente universitario non appartiene a nessun istituto che si occupa di geopolitiche però è accreditato esperto e sarà anche esperto su questo e sulla sua preparazione non è nulla da dire su quando viene intervistato in certe circostanze c'è molto a dire e si tratta di Vittorio Emanuele Passi ora nella sua ultima pubblicazione Vittorio Emanuele Passi il posto della guerra il costo della democrazia che è stato edito da Pompiani nel 2022 al di là dello schieramento che Prato è anche il mio schieramento insomma c'è l'aggressore eccetera eccetera sostiene una tesi molto singolare che sottopongo alla vostra attenzione che cosa dice Costuno dice ma circola la voce e anzi ormai conoscenza sedimentata anche presso i detti soprattutto presso i detti lavori che l'Europa dopo la seconda guerra mondiale non conta non conta più niente non ha più una sua politica estera e va a rimocchio e va a rimocchio negli stati orbene cari signori ma voi sbagliate completamente prospettive le cose non vanno assolutamente in questo modo e il fatto è che in seguito alla tragedia della seconda guerra mondiale che ha visto l'Inghilterra vittoriosa la Francia vittoriosa e poi invece la Francia la Germania scopita comunque l'Europa prese il suo complesso non è diminuita di importanza Polbo ha subito una sorta di metanoia metanoia vuol dire una sorta di cambiamento spirituale che ha fatto sì che l'Europa dà potenza cattiva imperialistica imperialistica prima della seconda guerra mondiale si è diventata la patria la patria del diritto alla patria della rule of law quindi quando si dice soprattutto in relazione adesso alla guerra russuquerina che l'Europa non ha una sua politica l'Europa è dalla parte contro la Russia perché c'è stata questa sorta di metanoia spirituale in seguito alla confronto della seconda guerra mondiale qui nell'Europa e di nuovo al centro del mondo perché appoggiando l'Ucraina si pone come il centro di un cambiamento storico spirituale che non si era mai visto nella storia dell'umanità che comunque in questo secolo non c'era orbene va bene essere diaristi e va bene avere dei valori però come detto volgarmente scambiare fischi per fiaschi cioè scambiare una debolezza per una specie di acquisita consapevolezza insomma ce ne vuole ce ne vuole ce ne vuole ce ne vuole e questo diciamo mentre nel primo esempio che avevo fatto una tritocci dice beh bisogna dipendere la democrazia o con quelli che sono contro la democrazia che non la difendono sufficientemente io non ci sto che è un atteggiamento una presa diciamo una assunzione di valori una assunzione valoriale che magari per me è troppo rigida però che può avere con il suo senso quando c'è uno studioso di relazione internazionale che va a fare un discorso del genere che va a fare un discorso che non ha nulla a che fare con lo studio della politica internazionale che non ha nulla a che fare con la geopolitica che ha semplicemente a che fare con i pii desideri i pii desideri poi che uno si dimentica io non avevo mai una tesi del genere veramente non l'avevo mai sentito con dei pii desideri beh lascio lo lascio a giudicare poi lascio a voi anche dato che ho segnato il libro che l'ho andata a comprare io me lo sono letto e lascio molto perplessi siccome ho fatto la lista dei buoni dei cattivi vado velocemente ai buoni tra i buoni chiaramente l'avrete indovinato ecco non chiaramente perché discende dall'altro dicere ma dal discorso che ho già impostato avrete ben capito tra i buoni tra quelli che fanno che cercano di fare una buona geopolitica ovviamente metto l'IMES l'IMES se uno ha modo di seguire l'IMES chiaramente vede una sorta di imbarazzo perché l'IMES e l'IMES Lucio Caracciolo e coloro che ruotano attorno a Lucio Caracciolo hanno sempre cercato di impostare un discorso geopolitico che ruota attorno al realismo politico e ruota intorno anche a una sorta di pedagogia nazionale cioè che l'Italia deve essere consapevole di se stessa per cominciare a parlare di geopolitica per parlare di Cina America Stati Uniti Inghilterra bisognerebbe guardare cosa riesce a fare l'Italia cosa riesce a mettere insieme l'Italia come senso di identità nazionale questi discorsi di l'IMES chiaramente siccome nessuno nessuno viene giù dall'alto dei cieli però deve calare deve tenere conto anche dei rapporti di forza all'interno all'interno dove svolge il suo postolato chiamiamolo così c'è parlando della guerra dell'Ucraina c'è sempre dell'Ucraina c'è sempre una sorta di imbarazzo una sorta di imbarazzo per dire guardate che i discorsi che vengono impostati a livello ideologico non valgono una città bisognerebbe guardare i rapporti di forza qual è l'interesse dell'Italia sempre però temprato questo discorso realistico viene sempre temprato con una giusta però un po' troppo sottolineata assunzione valoriale che va benissimo però le assunzioni valoriali vanno bene quando sono animatrici di un discorso non quando vengono sbandierate comunque l'IMES è così detto e diciamo viene sicuramente viene messo deve essere messo fra i buoni fra i buoni e fra i buoni mettiamo fra i buoni mettiamo pure diciamo i miei amici perché sono miei amici ecco tu hai detto che io ho la tua presentazione e poi tu hai corretto che io sono che io ho il blog Italia il mondo io non ho nessun blog però sono amico di coloro che che hanno creato il blog Italia il mondo e loro cercano sono diciamo quelli di blog Italia il mondo diciamo provengono dalla sinistra che è realista e stalinista per dircire chiaramente è una fase che hanno passato e l'hanno tramutato in una sorta di realismo politico ben temperato quindi vi segnalo due nomi andateli a vedere che di Bonelli e Orsi andateli a vedere perché sono molto interessanti le rapportate sull'Ucraina sono molto interessanti tornando ancora ai cattivi poi dopo passiamo perché buoni cattivi dalla parte diciamo di coloro che invece non professano valori democratici che però difficilmente possono essere messi allora la rivista Eurasia è Claudio Mutti Claudio Mutti è la contronarrazione rispetto ai geopoliti che vanno per la maggiore però è una contronarrazione di cui diciamo io vi vorrei mettere in guardia il più semplice fatto che Eurasia dice che noi dobbiamo essere amici della Russia perché il continente è un asiatico noi siamo non siamo Europa siamo un continente è un asiatico quindi siccome la Russia è Russia e Asia noi dobbiamo andare comunque trovare dobbiamo andare per le leggi della geopolitica che adesso non vi sto a illustrare noi dobbiamo andare d'accordo con la Russia perché noi siamo un continente è un asiatico quindi le leggi mancabili della geopolitica ci devono portare a stringere amicizia con Putin detto in maniera veramente però insomma il discorso che fanno costoro talvolta sono interessati perché sono una contronarrazione quindi riescono anche a scoprire le debolezze della narrazione che va per la maggiore però insomma dire che noi siamo euroasiatici quindi stiamo sbagliando tutto stiamo sbagliando tutto perché l'Italia non si schiera a favore di un blocco euroasiatico beh insomma poi chiaramente fra i buoni c'è Aretha Moscatelli sempre di Limes il generale Carini il generale Carini due mesi fa tre mesi fa ha tenuto un'ottima conferenza da Ucraina come era da Ucraina a Ucraina è stato è stato veramente un capolavoro di realismo di realismo politico militare dunque io l'ho anche scaricato l'ho anche caricato era su Youtube la casa amata l'aveva messa su Youtube io l'ho scaricato l'ho messo senza chiederti niente l'ho messo anche su un sito scientifico che si chiama l'ho caricato e ho fatto l'approad e comunque io su Youtube faccio fatica a trovare prima c'era c'era nell'account della casa amata adesso non c'è più c'è su Youtube però credo che questa conferenza stia rischiando perché Youtube insomma non è un sito scientifico quindi se una cosa non viene molto guardata alla fine i padroni del tubo dicono vabbè sai che c'è tu occupi dello spazio e ti cacciamo quindi io l'ho salvata e l'ho salvata a futura memoria perché è una conferenza veramente ottima molto interessante e che fa onore anche alla casa amata vediamo ora ecco avevo accennato sia il fatto di ecco andatevi anche a vedere come esempio di un geopolitico Yankee che proprio con la Russia vede rosso quando vede la Russia vede rosso vede rosso come il toro George Friedman è geopolitical futures George Friedman geopolitical futures è la dimostrazione che anche da parte di chi condivide diciamo un'impostazione atletistica ci sono coloro che fanno lezioni di geopolitica non vi dico nient'altro dico semplicemente geopolitical segnatevelo oppure fate l'appuntamentale geopolitical futures George Friedman è chiaramente inglese però è un inglese molto basico poi fra l'altro i suoi articoli sono anche molto sono veramente molto succinti quindi non sono dei trattati sono due cartelline quindi si leggono bene è anche un inglese molto semplice quindi vi invito ad andarlo a andarlo a vedere ora passiamo alla parte risorgimentale allora la parte risorgimentale perché facciamo questo parallelo con la geopolitica di oggi allora a mio giudizio i problemi della geopolitica italiana di oggi o della narrazione geopolitica di oggi al di là dei problemi delle manchevolezze delle persone delle debolezze teoriche sono sintomo di una cosa molto ben precisa sono sintomo del fatto cioè che una nazione che un popolo quando non riesce quando per vicende storiche ha perso diciamo ha perso gran parte della sua della sua autonomia la seconda guerra mondiale la guerra disastrosa e del fascismo è diventato comunque parte di una più vasta alleanza quindi ha perso comunque rispetto non ai tempi del fascismo che non era fatto ma ai tempi dell'Italia della cosiddetta risorgimentale ha perso la sovranità questo ce lo dobbiamo dire cioè l'Italia del secondo dopoguerra è un'Italia che ha dovuto accettare per una sorta di esito della guerra la sua sovranità è un discorso di Gasper ha tutto contro di me c'è tutto tranne la vostra personale è un discorso realista e comunque è un discorso dove denunciava che la sovranità dell'Italia la metteva in mano ai vincitori che devo dire ne hanno fatto anche un buon uso comunque una nazione quando perde sovranità o la deve ancora acquistare dipende anche intellettualmente da centri strategici e di elaborazione intellettuale esteri questa vicenda attuale italiana questa vicenda quest'attuale stato delle cose italiane lo possiamo vedere anche nel dissidio fra Mazzini e Garibaldi dove vedremo cercherò di fare non di dimostrare in storia non si dimostra nulla non ci sono dimostrazioni in storia è semplicemente un dito che mostra io vedo questo questo e questo poi voi indicate altre cose quindi non ci sono dimostrazioni in storia ma come io invece cercherò di mostrare si vede bene che Mazzini al di là delle caratterialità al di là dello sconto di personalità cercava una linea nazionale una linea anche istituzionale che scaturisse interamente dall'Italia Garibaldi Garibaldi si rivolse ad altri e per altri non intendo solo la monarchia perché si dice questo era monarchico l'altro era repubblicano a uno non davano giù in Savoia mentre l'altro era più realista eccetera eccetera quindi era inevitabile che non si intendesse no sì però c'è anche dell'altro cioè il fatto che Mazzini era una sua ossessione al di là della Repubblica anche l'iniziativa italiana cioè l'Italia doveva fare da sola doveva fare la sua unità da sola e trarre dal popolo le energie per fare questa unità in Italia Garibaldi invece non solo guardava non alla fine praticamente fin quasi dall'inizio non solo guardò alla monarchia sabato ma guardò anche all'estero guardò anche all'Inghilterra e questo guardare all'Inghilterra e guardare quello che oggi chiameremo Vicente Strategici Inglesi a Mazzini e qui vi leggerò dei passi a Mazzini proprio questo non andava giù questo non lo sopportava cioè Mazzini visse in Inghilterra la gran parte della sua vita ma gli inglesi non li sopportavano almeno gli inglesi li sopportavano ma la politica imperialistica inglese lui non gli andava giù ma noi li definiva proprio imperialisti e adesso e adesso andremo a vedere a mostrarvi documenti documenti alla mano quanto vi ho appena detto allora cominciamo dalla Repubblica Romana in realtà nella Repubblica Romana questo non spara nella Repubblica Romana abbiamo un Mazzini che vuole tenere basse le polveri vuole difendere militarmente la Repubblica Romana è un Garibaldi che vuole che vuole cacciare i francesi ha vinto una battaglia poi gli vuole incalzare Mazzini lo frena e qui si dice e qui viene detto ma sì Garibaldi aveva capito tutto che bisognava combattere Mazzini invece era uno fra loro no le cose non andavano così Mazzini aveva capito che alla fine i francesi se avessero qualora avessero deciso di darci sotto avrebbero non ce n'era per nessuno e siccome aveva capito questo Mazzini sperava che siccome c'erano le elezioni in Francia che avesse vinto la sinistra e vincendo la sinistra Napoleone III sarebbe stato sarebbe giunto più miti consigli e avrebbe fermato non avrebbe permesso alla spedizione comandata da Udino di portare all'attacco a fondo era un calcolo del tutto legittimo non sappiamo non è vero che la storia non si fa con i secoli ma si fa anche con i secoli ma se no saremmo racconteremmo saremmo dei cronicisti solo che le elezioni andarono male cioè andarono male per Mazzini lui vinse la destra vinse i cattolici i cattolici di destra in Francia e appena successo questo Napoleone III si disse no dai entra cioè non badare niente e non badare questo però questo qui fu uno sconto che denota un maggiore realismo politico di Mazzini non un minor realismo un maggiore realismo politico di Mazzini e un minor realismo di Garibaldi tuttavia per quanto riguarda la Repubblica Romana non si può pensare che siamo di fronte a due linee geopolitiche che divergono no uno pensava politicamente tra l'altro pensava solo militarmente nessuno ebbe ragione ebbe torto però quello che tengo a sottolineare è che Mazzini non era un caccia nuvole non era un sognatore che pensava che mostrando il petto e non sparando la Repubblica Romana si sia be' osservata Mazzini cerca di fare un'operazione politica che per cause che non erano in suo che non erano nel suo controllo non riuscì qui ci fu uno scontro tra Garibaldi e Mazzini ma questo scontro denota un maggiore realismo di Mazzini poi le cause andarono come andarono non le sto qui a ricapitolare però quando si dice e parecchia storiografia è passata adesso no quando si dice Mazzini non aveva capito niente povero Mazzini ma lì bisognava fare no Mazzini aveva capito tutte e aveva capito che l'unica speranza perché non dico la Repubblica Romana ma perché la rivoluzione si potesse estendere per dare una possibilità alla rivoluzione italiana di avere successo in quelle circostanze era comunque andare d'accordo con la Francia cioè non per stare completamente carli venire una sorta di convivenza poi non andò così veniamo ora a quello che invece si vede sì uno scontro di opposte visioni geopolitiche che è diverso da quello che si ebbe nella Repubblica Romana la guerra la guerra di Crimea ora adesso qui passo nella guerra di Crimea vediamo a sinistra per direzione eccetera eccetera ecco la guerra di Crimea vediamo un Garibaldi favorevole cioè favorevole alla linea intrapresa dal Piemonte è un Mazzini visceralmente contrario e perché allora intanto cosa disse Garibaldi stava rientrando nel Sud America cioè no non nel Sud America stava rientrando dopo la Repubblica Romana era andato negli Stati Uniti stava rientrando rientrò si incontrò nel 54 con Mazzini non sappiamo cosa si fosse cosa si era detto già lì i contrasti comunque erano già notevoli ma non abbiamo uno scambio pistolare allo Stato Mazzini e Garibaldi sulla guerra di Crimea però abbiamo le posizioni che espressero sulla guerra di Crimea i nostri due eroi eponimi di risorgimento sulla guerra di Crimea cosa va a dire Garibaldi Garibaldi dice l'Italia non dovrebbe perdere nessuna occasione per spiegare la sua bandiera sui campi di battaglia e per ricordare alle nazioni europee il fatto della sua esistenza politica il caso è così è la linea Cavul col piccolo dettaglio che Garibaldi pensava l'Italia Cavul che pensasse non vuole che ci senta Patuelli che Cavul pensasse all'Italia nel 54 con la guerra di Crimea lui pensava un allargamento del regno di Piemonte quindi che Cavul pensasse all'Italia certo dopo siccome le cose prendono un certo un certo abbrivio l'appetito viene mangiando poi a un certo punto si comincia a parlare di Italia ma Cavul l'Italia nel 54 chiaramente quello che è chiaro che lui anzi che Cavul disse ma più o meno ma questo tizio adesso non ricordo il nome mi ha parlato di Italia e di altre corbellerie Cavul era un politico navigato un politico molto realista e all'Italia ci pensava come occasione per erogare il regno del Piemonte e non pensava assolutamente che la storia dovesse finire con la conquista con la demolizione del regno di Sicilia e nemmeno del papato nel 54 lui voleva sedere nei consensi internazionali portare avanti la causa del Piemonte e va bene così vabbè Garibaldi invece pensava all'Italia l'Italia non deve prendere l'occasione insomma dobbiamo mostrare il nostro valore perché Garibaldi prese questa posizione solo per idealismo o per altri motivi ma formulerò un'ipotesi però cercherò di formularvela dopo veniamo invece ora a Mazzini Mazzini quando sa che si sta organizzando la spedizione mi cade letteralmente la catena non da di matto perché è un'espressione volgare però assolutamente si mostra ferocemente il contrario e fece addirittura scrisse una lettera aperta all'esercito Piemonte non all'esercito Piemonte ai soldati dell'esercito Piemonte Ve ne leggo alcuni stracci 15.000 tra voi stanno per essere deportati in Crimea come in Ciemale non uno forse tra voi rivedrà la propria famiglia il clima la mancanza di strade la difficoltà degli approvvigionamenti in una terra esaurita già dagli eserciti e che non può provvedervi se non per la via ad un mare incerto tempestoso difficile vabbè uccidono quei che non sceglie palle nemiche su 54.000 inglesi che lasciarono la terra loro 40.000 non rispondono più alla chiamata non so se le cifre che dava Mazzini fossero buone però sicuramente qui fa un'analisi militare perché nella guerra di Crimea ci furono parecchi morti ma solo per fare l'esercito degli italiani i bersaglieri gli italiani comandarono 15.000 in battaglia ne morirono pochissimi ne morirono 200-300 circa un terzo morì per malattie incidenti quindi questo gufare aveva anche una sua base di conoscenza tecnica non è che gufava il mare fa un po' ridere il mare tempestoso vabbè però quando parla dice che non avrete glorie malattie roba del genere insomma Mazzini era conoscenza delle cose non si limitava così a sparare la grossa e dire non vi ritornerete eccetera eccetera poi inencaro la dose voi non avrete battaglia morrete senza gloria senza oreola di splendidi fatti da tramandarsi per voi conforto ultimo ai vostri cari morrete per colpe di governi e capi stranieri i quali rifiutano per animo avverso alla libertà quindi non crediate di fare avanti Savoia avanti Savoia sarà un privilegio di pochi la maggior parte di voi ci rimarrà la marmora il fondatore del coppio degli obaglieri e uno dei comandanti della spedizione morirà di colera quindi si potrebbe dire la maledizione di Mazzini in realtà non era la maledizione di Mazzini ma il fatto che Mazzini era ben informato dei presupposti militari molto rischiosi in cui venivano mandati i soldati piemontesi non solo i soldati piemontesi allora ma non è poi salto non è la patria vostra la patria vostra quale in oggi poco importa se gli interessi mercantili dell'Inghilterra interessi mercantili dell'Inghilterra sia un oriso no dell'usurpazione russa in oriente anzi parentesi Mazzini non è che era poco simpatetico verso l'Inghilterra perché era un filo russo come diremmo no lui non era affatto un filo russo lui vedeva più i moti dei popoli che si battevano contro la Russia non era molto simpatante con il professor della Russia quindi lui ce l'aveva con l'Inghilterra perché riteneva che l'Inghilterra facesse una politica imperialistica e non lo diceva nemmeno detto ancora più inciso perché era contrario alle spedizioni coloniali lui verso la fine della sua vita dirà moltiplicemente che l'Italia si doveva prendere la Tunisia lo scrisse e che ce l'aveva con l'Inghilterra perché riteneva che l'Inghilterra conculcasse i diritti dei popoli insomma la guerra dell'oppio tanto per fare un esempio che Martini conosceva bene la guerra dell'oppio l'aveva fatta in inglesi e quella fu una guerra solamente commerciale mentre fu una guerra di tipo geopolitico la guerra si è fatta scoppiare in Crimea per far saltare l'assetto fra le altre cose per far saltare l'assetto del congresso di Vienna e per comunque prendersi cominciare a fare saltare questo assetto e diventare una potenza una potenza continentale mondiale no l'impero britannico fa parte già da prima la guerra dell'oppio fu fatta contro la Cina perché la Cina la guerra di Crimea fu dalla parte dell'Inghilterra fu per per minare l'assetto del cosa di Vienna e per cominciare a occuparsi dell'Adriatico cosa che vedremo allora poi qua ci dice ma Siria non si combatte per l'Italia di Crimea questo è più generico là si combatte a parole per proteggere l'indipendenza dell'impero ottomano nel fatto per gli interessi mercatovili di Inghilterra e per le miropolitiche dell'imperatore di Francia eccetera eccetera poi fece anche una lettera fece anche un volantino manifestino non una lettera aperta allora per combattere qui ecco il fatto testè compiutosi dai suddetti ministri patuissimi in via di 15.000 soldati italiani in Crimea per combattere una guerra a 20 di miri materiali interessi degli inglesi questo è già un altro questo fu un volantino sempre interessi materiali degli inglesi siccome non è lei non adopta la parola imperialismo viene usata nel novecento viene usata nel novecento parlando del colonismo però qui chiaramente parla di imperialismo allora interessi materiali degli inglesi la continuazione dell'esosa tiranide buonapartista aveva anche il dente avvelenato contro Luisi Bonaparte è diventato poi imperatore Napoleone III che gli aveva demolito la Repubblica Romana e per ultimo lo stabilimento di un equilibrio europeo peggiore di quello concluso si inviene nel 1815 aveva colto benissimo questo cioè che l'Inghilterra minava a scardinare l'assetto del congresso di Vienna e in particolare mirava ad impadronirsi a fare diventare il Mediterraneo Mare Nostrum facendo la pelle a chi? facendo la pelle al regno delle due Sicilie che era nel mirino che era già nel mirino del Mediterraneo il regno delle due Sicilie dove Ferdinando Ferdinando II aveva cercato di impostare una politica di neutralità assoluta verso tutti il regno delle due Sicilie che quando a Ferdinando II gli era stato proposto da parte degli inglesi di aggregarsi alla lega brigata che andava a combattere contro la Russia aveva detto no questa è una cosa che non mi interessa a me la Russia non mi ha fatto niente io voglio essere amici di voi inglesi voglio essere amico dei francesi voglio essere anche amico voglio essere amico dei russi e qui cominciò veramente diciamo il fatto che il regno di Sicilie fosse stato messo sotto il mirino degli inglesi che gliela faranno che gliela faranno pagare ora questo per quanto riguarda la guerra di Crimea qui quindi qui vediamo qui vediamo che c'è veramente una diversa visione geopolitica fra Mazzini e Garibaldi Mazzini vuole iniziative italiane Mazzini non vuole aggregarsi nemmeno per sbaglio a delle potenze che oggi al tempo nostro definiremo imperialistiche che dal suo punto di vista comunque facevano solo degli interessi commerciali però non combattivano per libertà di popoli che Garibaldi invece già guardava alla Gran Bretagna perché guardava la Gran Bretagna guardava la Gran Bretagna e si possono fare solo delle ipotesi ve lo dirò ancora in ultimo ve l'ho già detto una volta passiamo adesso alla spedizione di Emilia il dissidio fu continuo però ci furono dei momenti particolarmente significativi allora spedizione di Emilia qual è il problema con la spedizione di Emilia i Emilia furono aiutati finanziati dalla Gran Bretagna fino a poco tempo fa la questione era ritenuta con di scarso lieve nel senso che si negava che ci fosse stato un importante aiuto dalla Gran Bretagna tuttora c'è una storica che si chiama Lucy Ryle fu anche invitata nel centenario del centocincantesimo universale dell'unità d'Italia comunque Lucy Ryle dichiara no i mille non furono assolutamente non risultano non esiste qui siamo nell'ambito del racconto puramente del racconto delle fate e perché siamo nel racconto delle fate perché allora l'aiuto l'aiuto britannico alla spedizione di Mille fu almeno in tre occasioni specifiche in tre occasioni molto molto specifiche in tre occasioni molto specifiche però e lo omette anche Garibaldi Garibaldi lo omette in occasione dello sbarco di Mille a Marsala Garibaldi attesta che leggo cito quando gli incracciatori borbonici giunsero a tiro di cannone noi avevamo già sbarcato tutta la gente del Piemonte Piemonte non è Piemonte regione Piemonte il vapore e si principiava allo sbarco di Lombardo erano i due legni che portavano in Mille la presenza di due legni della guerra inglese influì alquanto sulla determinazione dei comandanti di legni nemici naturalmente impazienti di fulminarci legni borbonici avevano mandato sapevano che sbarcava li avevano cercato un po' per tutti dove pensavano la lotta e poi chiaramente erano andate a presidiare i porti dove era più facile sbarcare e ciò di tempo di ultimare lo sbarco nostro la nobile bandiera di Albione contribuì anche questa volta a risparmiare lo spargimento di sangue umano ed io Beniamino di Codesti signori dell'oceano fui per la centesima volta il loro protetto ora qui più chiaro di così cosa si è cercato da parte di alcuni storici inglesi italiani sono stati abbastanza da alcuni storici inglesi ma si c'erano due navi inglesi però erano state mandate lì perché sapevano che c'era un po' di tumulti siccome in Sicilia e a Marsala c'erano dei forti inglesi erano state mandate lì a vedere che non scoppiasse nulla però insomma fu un fatto puramente casuale si trovavano lì perché insomma le navi le navi inglesi circolavano ora dando anche per buono il fatto che si trovassero lì in principio per caso lo vedete voi plausibile che dei militari dei marinai una marina militare si frapponga se non ci sono degli ordini specifici così di sua iniziativa dice ma il comandante mi è simpatico questo Garibaldi bravo ragazzo adesso non voglio che lo bombardano adesso io impedisco i borbonici non è malattensabile non è verosimile è una cosa assolutamente incredibile quindi c'è il fatto che magari arrivarono lì per caso perché ebbero la fortuna di arrivarci però che non avessero ordini imprecisi nel caso che voi incrociate la marina barbonica che cerchino di impedire diciamo di fare a pezzi i garibaldini voi chiaro che c'erano degli ordini chiaro che c'erano degli ordini imprecisi di fare tutto possibile perché i garibaldini o sbarcassero comunque non fossero minacciati dalla marina barbonica qui viene riconosciuta garibaldini ci saranno altre due circostate in cui l'Inghilterra in cui la Gran Bretagna aiuterà la spedizione di miglia allora la seconda volta fu durante l'assedio di Palermo allora Palermo era tenuto dal generale Lanza erano 20.000 20.000 20.000 soldati i garibaldini vabbè s'erano stati mille forse qualcosa di mille perché aveva vinto qualche battaglia però insomma rispetto ai borbonici non erano una certa gran cosa ora il consul inglese che era intanto cosa fece fornì i garibaldini della cartina della cartina proprio la cartina come era fatto Palermo come erano fatte le fortificazioni gentilmente gli passò la cattiva comunque si viene ai combattimenti e a un certo punto si viene a una sorta di tregua sempre mediata dalla consul inglese tre giorni di tregua in cui dato che gli altri erano 20.000 e quegli altri erano 1.000 2.000 buf non lo so c'erano anche i picciotti comunque erano infettamenti superiori dove comunque avrebbe consentito a quelli che erano in superiorità di riorganizzarsi e i garibaldini non rimaneva capace di spazzare cosa succede dopo tre giorni miracolo il generale Alza si arrende si arrende e il consul inglese riesce a far ottenere che i soldati borbonici possono sfilare con l'onore delle armi viva viva cioè quando si dice l'esercito Franceschiello in realtà l'esercito borbonico a livello di truppe erano combattivi erano abbastanza motivati se lì non ci fu un intervento di corruzione da parte del consul o da parte di qualche posto esterno non si spiega come 20.000 si arrendono con l'onore delle armi di fronte a questi garibaldini armati non è credibile sono quelle vicende se poi un'altra circostanza la terza in cui di cui fra l'altro Garibaldi non parla o ne parla per del relato in cui Garibaldi fu aiutato l'attraversamento dell'aspetto di Messina nell'attraversamento dell'aspetto di Messina non c'è più la marina borbonica che cerca ci sono i francesi Napoleone III non era molto contento gli manda la marina borbonica arrivano stanno per impedirlo compaiono gli eni britannici che anche lì patta pam non riescono si frappongono e i garibaldini passano ora questa è la storia la storia diciamo complottistica ma nemmeno più di tanto riportata da questo che ha fatto gli studi in questa direzione gli italiani bisogna segnalare uno studioso Eugenio di Renzo di Renzo il regno delle due Sicilie delle due Sicilie e le potenze europee Rubettino 2012 dove parla di queste cose non molti altri l'hanno seguito se ne è parlato un po' per esempio adesso si comincia a parlare ieri ho avuto modo di vedere guardandolo su Youtube si parlava della spedizione dei mille c'era lo storico francese di PQ e Mieli a un certo punto Mieli fa ma è vero che è stato aiutato è stato aiutato dalla Gran Bretagna risposta di PQ sì ma si passa dopo questo sì dopo questo sì si passa a passare alto va bene però allora arriviamo allora Garibaldi arriva a Napoli Garibaldi arriva a Napoli e a Napoli ci va anche Mazzini perché diceva vabbè vediamo di dare una direzione repubblicana di dare una direzione diversa rispetto a quello di tagli Vittorio Emanuele che era lo slogan lo slogan di Garibaldi il 17 settembre arriva Mazzini e cerca di incontrare Garibaldi Garibaldi si sottrae si dà Garibaldi si sottrae Mazzini all'inizio scrive sì cioè non sono riuscito a incontrare Garibaldi perché Garibaldi se n'è andato è andato a conferire in Piemonte ma l'assoluto Garibaldi era Napoli dopo Mazzini mangia la foglia però non demorde e prima che Garibaldi prima che Garibaldi lasci Napoli a capo di monte Mazzini riesce a incontrare riesce a incontrare Garibaldi e riesce a incontrare Garibaldi anzi egli scrive una lettera dove dove dice allora Garibaldi tu dovresti fare ecco quello che tu dovresti fare dovresti firmare un indirizzo dovresti fare una lettera di 20.000 volontari in favore dell'unità del suo compimento cioè tu dovresti radunare in tutta Italia 20.000 dovresti riuscire tramite il tuo appello a riunire 20.000 volontari poi comparite con questo con una relita in mezzo al Parlamento cioè al Parlamento di Torino nei primi giorni disponite in modo deciso la causa nostra e del Paese sarete poggiato fortemente tanto a trovesciare probabilmente a Cavour auguri arredite che la non nessione non è un pegno per voi che lo farete subito il giorno in cui egli annuncia in Parlamento la dismissione di Cavour e la guerra al Veneto per tornare subito facendo un giro per le province avrete un altro esercito numeroso non parlatevi prego senza vedermi però non lo riceve allora lui gli scrive di nuovo perché questa è una letta per incontrarlo e lui gli scrive un altro non parlatevi prego senza vedermi ditevi voi come e quando un quarto d'ora solo se potete può giovarli intendici io sono Capodimonte ma verrò dove vorrete non lo incontrò qui si vede e qui si vede sì qui viene fuori un po' l'ingenuità di Mazzini si vede anche che Mazzini proprio non era forse al corrente o forse preferiva ignorare il fatto che la spedizione la spedizione dei mille fu voluta finanziata anche da potenze esterne cioè quindi Garibaldi non doveva solo rendere conto non tanto Cavour che Cavour la subì la spedizione di mille doveva rendere conto soltanto al re doveva rendere anche conto ai suoi amici inglesi i quali sì erano molto contenti di aver fatto fuori il regno delle due Sicilie Ferdinando II perché il regno delle due Sicilie era una pedina importantissima per il dominio del Mediterraneo stavano costruendo il canale di Suez era importante per lo Zolfo quindi geopoliticamente era importantissimo quindi far fuori far fuori Francesco II del suo regno era in un po' sulta cioè lui doveva rendere conto Mazzini doveva rendere conto a questi signori a questi signori che l'avevano finanziato che l'avevano aiutato quindi non era solo una storia italiana che si doveva risolvere fra italiani fra repubblica monarchia fra rivoluzione fra rivoluzionari moderati era una storia dove doveva rendere conto anche alla Gran Bretagna e che dovesse rendere conto alla Gran Bretagna lo vediamo infine e vado anche vado a concludere perché poi vorrei anche lasciare spazio lo vediamo anche infine nel misterioso viaggio che Garibaldi fece a Londra nel 54 Garibaldi si recca a Londra e si recca a Londra e a Londra riceve entusiastici manifestazioni di simpatia popolare una cosa addirittura una cosa addirittura mai vista perché parlo di viaggio misterioso non certo perché non fosse pubblico non c'è mai stato credo che nell'ottocento è stata la è stata diciamo la manovra di pubblica relazione più pubblica ed entusiastica che mai sia che sia accaduto insomma fu un evento unico misteriosa perché misteriosa innanzitutto perché gli storici britannici ne parlano poco ne parlano con allusione è misteriosa anche perché Garibaldi e nessuna memoria non ne parla mai di questo ingresso trionfale in Gran Bretagna di questo veramente di questo trionfo personale che Garibaldi tiene in Bretagna Garibaldi ne parla ora sia storici italiani che storici britannici hanno detto si Garibaldi era una persona naturalmente modesta non voleva non voleva fare la ruota del pavone non voleva fu per modesta lui non ne parla perché era una persona modesta ora Garibaldi certamente aveva i tratti da cincinnato aveva i ritratti anche di di lo zez esibito ma che Garibaldi fosse persone modeste che non fosse attenta alla ricaduta della sua immagine è quello che gli poteva fare gioco per portare avanti i suoi ideali non era persona modesta era persona che non aveva magari atteggiamenti magnilocuentemente retorici anche se subiva la retorica romantica però che Garibaldi fosse una persona modesta questa no non era persona modesta Garibaldi tutta la sua vita fu in parte sui campi di battaglia e fu per costruire la sua immagine andava in giro in camicia rossa col poncio quando fece l'ospedizione di Milie c'era tutto un seguito di giornalisti scrittori romandieri dice fu seguita a livello mediatico fu arci seguita quindi che Garibaldi fosse uno che non era attento al lato mediatico della questione no questo assolutamente è vero il contesto è assolutamente il mondo non è stato Garibaldi era molto attento e se Garibaldi non ne parla probabilmente Garibaldi come era andata questa vicenda come si era svolta e che qual era stato svolgimento non era non era affatto non era affatto contento di questo viaggio di questo viaggio di Garibaldi di Garibaldi nella Bretagna ci furono dei momenti ci furono dei momenti come diremmo dei momenti clou i due momenti principali furono il ricevimento alla Fishmonger Company fu ricevuto la Fishmonger Company si è gemellata appunto con la Casa Barta fu ricevuto la Fishmonger Company ma la Fishmonger Company non si deve pensare che fossero i grandi ufficiali della Fishmonger Company poi a Garibaldi no c'era tutta la classe di gente britannica c'erano tutti e Garibaldi erano 200 persone ma non erano 200 persone come potremmo essere noi da Garibaldi che bello no era l'establishment britannico in quei 15 giorni in quei 15 giorni del viaggio lui incontrò tutti non incontrò solamente uno non incontrò la regina Vittoria che aveva tremendamente l'antipotia però incontrò i principi di Gales con gran cavolatura che ecco per dire così per non dire parola volgare della regina che andò altrimenti di matto incontrò tutti dopo la Fishmonger cosa fece però fece forse un passo falso oppure no lui non lo ritirava un passo falso non lo ritirava una cosa necessaria cosa fece incontrò Martina a casa di Erzene incontrò Martina a casa di Erzene e questo è probabile è possibile che gli abbia inimicato l'establishment britannico perché Martina comunque mentre Garibaldi insomma aveva servito gli interessi britannici Lord Palmerston aveva detto ma no aveva avuto un'espressione sibilina sì facciamolo venire perché fa meno danni qua chi la trova ma cioè quindi Palmerston disse sì lo invitiamo in Gran Bretagna perché in Gran Bretagna lo riusciamo a tenere compresso mentre se si gira per il mondo chissà cosa ci conviene che strano che strano modo di presentare che strano modo di presentare l'invito mentre ci fu Gladstone che era il cancelliere dello scacchiere che a un certo punto gli disse dopo che fece l'incontro con Martini gli mandò il medico della regina e il medico della regina gli disse ma io io ti vedo che la tua salute è un po' mal certa tu non sei ancora guerito dalle ferite della spromonte non è il caso che tu te ne ritorni indietro perché noi non ti vediamo con una bella cera Garibaldi che non era fatto scemo che come si dice che non erano scemo capì l'antifona e prese e prese la cosa prese e prese la via del ritorno il viaggio iniziò il 3 aprile e se ne andò il 28 aprile il 28 aprile si imbarcò riporto l'incontro a casa Erz la casa dell'evoluzionario dell'evoluzionario di un suo Erz ci fu un brindisi un brindisi Massini e Garibaldi vi leggo comunque gli indirizzi di Massini e Garibaldi allora Massini rivolto a Garibaldi dice all'uomo che per le sue azioni e l'incarnazione vivente delle grandi idee cioè Garibaldi a Giuseppe Garibaldi al popolo santo eroico della Polonia che dopo più di un anno di combattimento è silente morto per la libertà alla nuova Russia che sogna questo sogno di libertà che sogna terra e libertà tenderà la mano un giorno e si rigancerà alla Polonia per la difesa della libertà e la dipendenza cancellerà il ricordo dello zar ai russi eccetera a Erf eccetera quello che è più interessante invece è quello che dice Garibaldi perché Massini dice alla fratellanza dei popoli l'unione dei popoli e a Garibaldi Garibaldi voglio fare una dichiarazione che dovevo fare da molto tempo evidentemente aveva forse un po' la cosa di paglia c'è qui un uomo che ha reso i più grandi servizi al mio paese e alla causa della libertà quando ero giovane e io non avevo che aspirazioni vaghe io ho cercato un uomo che mi potesse consigliare guidare nei miei giovani anni e l'ho cercato come l'uomo che come l'uomo cerca l'acqua questo uomo l'ho trovato si riferisce quando nel 33 fu affiliato alla giovane Italia non solo ha conservato il fuoco sacro non solo ha vegliato quando tutti dormivano egli è diventato il mio amico ed era anche rimasto mai dunque mai in lui si è spento il fuoco sacro dell'amore della patria e della libertà questo uomo è Giuseppe Mazzini al mio amico al mio maestro allora poi qui viene la parte interessante Mazzini ha detto a proposito della sfortunata Polonia alcune parole che sono l'espressione perfetta dei miei propri sentimenti alla Polonia a parte i matti alla Polonia che ha marcato che con i suoi morti ha segnato la via dell'indipendenza al paese che ha donato un sublime esempio ai popoli vediamo anche la giovane Russia che soffre che lotta con noi al nuovo popolo che una volta liberato dalla terrenia e dello zar avrà un grande ruolo in distrito d'Europa infine all'Inghilterra a questo paese dell'indipendenza e della libertà che per la sua ospitalità e la sua simpatia e per i suoi meriti ha tutta la nostra riconoscenza all'Inghilterra che è a cui noi dobbiamo una felice occasione di ritrovarci ora Garibaldi era ospite in Inghilterra però era di passaggio Mazzini non era esattamente di passaggio e nonostante non fosse esattamente di passaggio all'Inghilterra per l'Inghilterra liberatrice dei popoli eccetera eccetera questo non dice assolutamente niente è chiaro che non siamo di fronte alle dimenticanze è chiaro che qui il dissidio fra Mazzini e Garibaldi dove certi storici molti storici dicono che qui fu momentaneamente ricomposto assolutamente non fu ricomposto emergono due linee geopolitiche nettamente diverse e che in fondo saranno saranno diciamo oltre alla contrapposizione alle ase con la monarchia alle ase con la repubblica saranno il filone sotterraneo che manterranno questo questo dissidio inalterato fra Mazzini e Garibaldi poi ci fu anche ci fu anche Mentana dove Mazzini si augurava non lo leggo per non tirarlo troppo lungo dove Mazzini si augurava perché tutto andasse a carta 48 come infatti fu quindi eccetera 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 e voglio terminare con una poesia con una poesia con il giuramento della giovane Italia per cercare almeno di ricomporre a livello emozionale simbolico quello che forse che durante il mio intervento è sembrato una contraposizione quasi feroce feroce forse non lo sarà stato però è stata veramente una linea un discrimine molto netto e un discrimine molto netto che rapportato ai giorni nostri cosa ci può insegnare che quando una nozione non ha la sua sovranità l'Italia di loro non aveva la sua sovranità non certo per colpo di Garibaldi non certo per colpo di Mazzini stenta a trovare delle linee di politica estera delle linee diciamo di intervento di lavoro geopolitico che possono veramente soddisfare gli interessi a lungo termine del paese in questione che è la situazione dell'Italia allora la poesia si tratta di una poesia di Giovanni Pascoli che non credo nemmeno sia stato pubblicato non lo so se quando era Pascoli in vita sia stato pubblicato se qualcuno qualche professore di italiano me lo dirà se sarà contento io l'ho trovato sul sito del insomma sul sito dell'associazione Giovanni Pascoli dove pubblica anche degli inediti questa poesia è Garibaldi in cerchio di Mazzini ora e sempre di Giovanni Pascoli allora e vi leggo solamente i passaggi principali per dire come la poesia come i simboli cercano di ricomporre quello che è infranto ma cercano di farlo anche giustamente perché diciamo se vogliamo fare anche un discorso della geopolitica lavora sì sul realismo politico ma lavora anche sui simboli sulle mentalità del popolo e praticamente la geopolitica è quella più consapevole non parla solo di mari forze cannoni forze forze militari dunque collocazione geografica produzione parla anche di mentalità popolare e di senso di identità nazionale questa poesia di Giovanni Pascoli cerca di ricomporre in un'unità un'unità che in realtà non c'era allora Mazzini cerca di Garivaldi Mazzini i suoi dispersi nello stesso luogo sedevano attorno alla parete Giovanni al seno gli piangeva sommesso e disse il pianto è l'acqua per la sete del cuore anela per il suo deserto a quella fonte dell'anima piangete Jacopo infatti la poesia inizia con un pianto nei confronti di Jacopo Ruffini che fu il primo martire della giovane Italia che morì suicida non si sa se suicida o ucciso nelle cate il Piemontese ed era il più grande amico di Mazzini Jacopo era il mio primo questo è evidentemente qui Mazzini che parla era il più certo era il più mito amava l'ombra vuole essere ma dall'odolo suo scoperto a noi sembra strano ma dall'odolo suo scoperto qui va a fare un paragone poi gli va a ripascoli parea quei gigli fatti di corolle né dall'alto d'una purità di cima ma nati a valle nati a piedi del colle chino anche lui non come fior che opprima la pioggia ma che il sole a essere fiore pieghe sul tenio gambo da sé prima saltiamo tutto il resto del pianto al paolo Jacopo ecco e passiamo a Garibaldi che con un sorta di strano cioè sembra quasi una una composizione che non rispetta i criteri di tempo di luogo questi qua sono in caccia Mazzini i suoi che piangono Jacopo e a un certo punto compare Garibaldi ancora sulla nave ancora sulla nave che ancora deve incontrare Mazzini quindi c'è questo scarto se non di tempo c'è questo scarto diciamo di luogo si passa ex abrupto a Garibaldi gli esili lontanare vedevano quella granare e il profeta stupì come sbocciasse lui dall'animo in monastanza cioè Mazzini intravede questa barca questa nave che porta Garibaldi lui la intravede e lui sboccia come vedesse una stella un nuovo sole la stella illuminava le tre Rome le tre Rome le tre Rome di Mazzini la terza Roma Aure e Cupole Arche Trionfale una città che non aveva che il nome Roma non era ancora la terza Roma e Mazzini voleva la terza Roma però questa visione di questo Garibaldi che si avvicina gli fa intravedere la terza Roma e vabbè salto gioia mattinale eccetera tre colpe all'uscio allora Garibaldi è sceso va a bussare all'uscio all'uscio di Mazzini va a bussare alla gioia d'Italia tre colpe all'uscio era un fratello avanti un uomo di mare entrò largo alla fronte bronzato con fulvi capelli ondanti stetti sereno come ancora sul ponte della sua nave fisso alla polare ora sembra che parlasse il mare al monte con un'ondata e sempre il monte al mare probabilmente giunse ororo in porto da Tangaroc perché lui veniva quando è iniziato la gioia d'Italia dall'Ucraina da Tangaroc voi siete a comandare qui sul ponte io vengo a subito il moto cioè via ruffini qui abbiamo proprio una costruzione simbolica fortissima che cerca di ricomporre cerca di ricomporre l'infranto quello che già si capiva che era l'infranto che si sapeva che era l'infranto non vi leggo il giuramento della gioia d'Italia il giuramento della gioia d'Italia terminava con ora e sempre che fu ripreso dal poeta diciamo anche noi ora e sempre nel nome adesso anch'io cercherò di emulare cercherò di emulare Giovanni Pasquale malamente perché questa è stata una conferenza che ha avuto le preteglie storiche non di costruire simboli però ricordare che anche i simboli hanno la loro importanza che anche cercare di ricomporre tuttora si fa l'infranto magari cercando di andare anche a vedere come andarono veramente le cose che però non devono essere il fatto storico non devono essere preso per dire allora no non è vero niente il risorgimento si odiavano a morte non è così furono uomini che vissero i loro tempi ci fu una convergenza di obiettivi ci furono delle profondissime divergenze convergenze e profondissime divergenze facendoli venire fuori come abbiamo cercato di farli venire fuori stasera e magari agganciando l'attualità spero che sia anche un modo per rinverdire un mondo simbolico che purtroppo non certo per culpa degli storici cattivi ma perché l'identità nazionale e il senso della storia da dove veniamo è andato di più sbendente non per culpa degli storici revisionisti nel quale stasera potete mettere anche me e quindi questa diciamo questa lezione questa conferenza deve essere vista come un modo per rinverdire un'epopea che forse ha anche bisogno di essere guardata più a fondo e proprio guardando più a fondo se ci si innamora viene l'innamoramento innamorandocene saremo in grado di costruire modi stop finito grazie 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 Massimo se ci sono delle domande lasciamo spazio se qualcuno vuole approfondire qualcosa vuole chiedere qualcosa abbiamo un po' di spazio allora ne approfittiamo per i saluti rifletteremo rifletteremo stasera allora salutiamo e ringraziamo sua eccellenza il prefetto di Ravenna salutiamo salutiamo il vice sindaco del comune di Ravenna Eugenio Fusignani il professor Morigi Massimo l'avvocato Filippo Raffi ringraziamo caldamente la Casa Mata l'associazione Mastiniana la società conservatrice del capanno Garibaldi e l'associazione nazionale volontari reduci Garibaldini nelle persone di Gianni della Casa e Baldo Baldi grazie a voi tutti per essere intervenuti grazie mille il presidente il presidente dell'associazione nazionale volontari veterani e reduci Garibaldini vuole fare omaggio al signor prefetto del passoletto di vero sanitario ne approfitto per omaggiare anche per omaggiare anche il libro e chiunque di voi desiderasse ce n'è una copia qui e siamo molto lieti di offrirla grazie a tutti per il vostro intervento grazie grazie grazie